La consapevolezza di appartenere ad una squadra che può ben figurare nella quarta serie nazionale. Alla vigilia della gara di Rieti abbiamo incontrato il giocatore della Sasse di Calcio Latte Dolce, Andrea Congiu. Stiamo crescendo giorno per giorno, penso che abbiamo ottime individualità, l'abbiamo dimostrato in ogni partita. Siamo stati un po' sfortunati nella prima uscita contro la Nuorese, non riuscendo a ottenere i tre punti che volevamo. Siamo riusciti a ottenerli nella seconda partita in casa e vogliamo sicuramente ripeterci domenica a Rieti. Il mister è sicuramente una persona preparata, sta mettendo in campo subito le sue idee. Noi ci stiamo adeguando alle sue idee, stiamo cercando di metterle in atto giorno dopo giorno, allenandoci duramente. Come hai detto tu, è un campionato difficile, quindi dobbiamo mettere tutte le energie per cercare di competere con le grandi squadre che ci sono in questo girone quest'anno. Come ho detto prima, stiamo facendo di tutto in settimana per seguire le idee del mister e per ottenere i risultati che vogliamo.